con grande piacere oggi parliamo con i barristi di gare e parlando di gare ivan io ti porto così alla memoria bardolino insomma tu hai gareggiato tantissimo bardolino è di fatto la gara più amata dal popolo degli dei triatleti italiani ma non solo ma bardolino fabio è la prima gara che io ho conosciuto ancora prima iniziare a far triathlon vedi ho dei compagni di allenamento di nuoto che erano triatleti si allenavano con la squadra di nuoto nostra e mi parlavano di bardolino quando andavano a farla perché era la gara stiamo parlando degli anni 90 e oggi ci sono tante più gare ci sono altre tante gare belle però bardolino è sempre stata della gara più importante più storica e la mia prima mio primo anno di triathlon parlando a suo tempo con il mio allenatore dico che gara devo faccio quest'anno e mi dice beh bardolino la segniamo nel calendario per forza perché non puoi non farlo senti ti ricordi la prima volta che sei arrivato lì sul campo gara sì me la ricordo dal 2003 quindi mio primo anno vero di triathlon ed è stata un'emozione forte perché mi avevano parlato di questa gara di quanta gente c'era del livello della gara ai tempi forse quell'anno lì aveva vinto Policarpenco una delle sue tante vittorie credo che l'abbia vinto dalle 6 alle 8 volte adesso non ricordo però esatto e e quindi insomma ero rimasto impressionato da questa gara perché sostanzialmente è stata la mia prima gara dove il livello era veramente internazionale diciamo perché a quei tempi molto alto e era già molto alto e quindi insomma un'emozione forte senti sono passati tanti anni da atleta ad allenatore adesso porti i tuoi atleti a bardolino sì molti ragazzi la fanno ancora e ancora oggi ripeto la stessa frase quando mi dicono la gara potrei fare di olimpico in questo periodo e dico beh bardolino è una delle gare quindi la mettiamo sempre nel calendario poi ovviamente chi vuole farla chi no però sì è sempre il consiglio della gara allora viva bardolino